Ormai vi chiedono di prendere il posto che fu di nostro padre. Il tempo di non salvo è finito. Io vi dico che so di ammazzare mio padre e mio fratello. E voi lo dovete restare. Lei chiede aiuto alla giustizia dello Stato. È così? No. L'aiuto ve lo dovi io a voi. Che minchia c'è il salso giudice? Che giugaccia vuoi dire c'è il salso giudice? Vai via subito. Devi sparire al più presto possibile. Carla morta, sì. Stavolta no! O ce la fanno con mia? Con tutti ce la fanno. Non devi parlare con nessuno, né con i vicini, né con la portiera. Aspetti, non mi lasci sola. Solo lei può farci collegare tutti questi crimini. Io ho iniziato a guardare la gente del paese con occhi diversi. Ho cercato di capire come si facevano a rispettare quelli che già erano forti. Non lo so dov'è! Io sono libera! Ancora quando sei accorta che sei nascosta come un dopo in John Portuso? Ma le stiamo chiedendo una cosa terribile a sta ragazzina. Farle ammettere davanti a tutti che suo padre e suo fratello sono degli assassini. Abbiamo decine di prove che dimostrano che la sua testa è una mitomane. Una ragazzina assetata di vendette che vuole farsi giustizia da sé. Hai diritto di dimenticare e avere una vita normale. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma che ci impedisce di sognare. Se ciascuno di noi prova a cambiare, forse ci riusciremo.